Salve a tutti, per chi non mi conoscesse sono Giorgio Abbafati, cofondatore di FisioLife Velletri e fisioterapista della Nazionale Assoluta di Atletica Leggera. Innanzitutto vorrei ringraziare la FisioSport Italia e il dottor Darpe per averci ospitato e dato la possibilità di approfondire questa meravigliosa tecnologia che è il LaserX, utile soprattutto nel trattamento degli sportivi e non solo. Grazie alla sua potente azione antalgica, rapida e duratura, grazie agli effetti anti-infiammatori, anti-ademigeni e diretti sul metabolismo cellulare al fine di ottenere effetti di tipo anabolico proliferativi, sarà sicuramente un alleato importante qualora si dovessero presentare degli infortuni o degli imprevisti ai prossimi campionati del mondo di atletica che si terranno a Doha a fine settembre. Grazie a tutti!